C'è un'interrotta linea del tempo che vede le donne impegnate ad eliminare in Italia la cultura della violenza di genere e rendere le istituzioni del nostro paese veramente democratiche. Nella mostra dell'Udi nazionale e ferrarese, oltre a Daphne fermare a pollo, che ha elencato le tappe principali di questo processo, si parte però da due date che, al contrario, segnano nella prima metà del Novecento un momento di grave arretramento delle donne rispetto al processo di emancipazione femminile iniziato a fine Ottocento nei paesi di cultura liberale. Sono il reggio decreto del 1923 sulla riforma gentile che esclude le donne dall'insegnamento e le mannazioni del Codice Rocco nel 1931 nel Codice Penale di Matrice Fascista che definiva in ambito civile e penale il potere dei mariti e dei padri sulle donne. Per le donne italiane furono un gravissimo affondo, da cui le leggi verrate a partire dal 1945, anno della caduta definitiva della dittatura fascista, hanno cercato di recuperare dignità e parità di diritti. Si parte dal decreto legislativo che riconosce nel 1945 il diretto di voto attivo alle italiane con più di 21 anni, tranne le prostitute schedate, cui segue il decreto del 10 marzo 1946 che riconosce l'eleggibilità delle donne e che trova la sua piena applicazione nel referendum monarchia e repubblica nella votazione delle componenti e dei componenti dell'Assemblea Costituente. Intanto, nel 1946, l'ONU, con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sancisce per la prima volta in via generale il principio di non-discriminazione tra i sessi, che trova nella Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna, adottata nel 1979 sempre dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, lo strumento fondamentale in materia di diritti delle donne e che è stata ripresa nel 1993 dalla Convenzione di Vienna, che recita i diritti umani delle donne e delle bambine su una parte inalienabile, integrale ed indivisibile dei diritti umani universali. Intanto, in Italia, nel 1948, anno della sua entrata in vigore, la Costituzione della Repubblica Italiana, negli articoli 3, 29, 37 e 51, riconosce l'assoluta parità di diritti fra uomini e donne. Anche sulla strada della lotta alla discriminazione e alla violenza di genere si segnalano molte tappe, soprattutto sotto la spinta dei movimenti femminili e femministi, tra le più decisive per le donne del nostro Paese del 1950, la legge che promuove la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madre, l'abolizione definitiva nel 1963 dello Just Coerigendi, la legge Merlin che nel 1958 abolisce la regolamentazione della prostituzione e promuove la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, la legge 66 che nel 1963 ammette la donna, i pubblici uffici, le professioni e la magistratura, la legge 71 che vieta il licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio, fino ad arrivare alle leggi che portano, seppure lentamente, il riconoscimento della volontà della donna nei rapporti sessuali, con l'eliminazione, prima del matrimonio riparatore, e poi nel 1996 del riconoscimento dello stupro come violenza contro la donna e non più soltanto un'offesa contro la morale pubblica.